Aumenta il numero di giovani che vogliono ritirarsi dalla vita sociale. Per far luce su questo fenomeno avete organizzato un momento di approfondimento e di confronto mediante un seminario. Quando si svolgerà e come è nato il progetto? Il seminario si svolgerà il 24 febbraio. È importante dire che è un seminario online, è un webinar che abbiamo organizzato all'interno di un sito attiviamoenergiepositive.it gestito da Banca Etica ed è un seminario di un paio d'ore in cui rifletteremo insieme ad una serie di amici e esperti su questo fenomeno. È importante l'orario perché il seminario comincerà alle 15 e finirà alle 17. Poi ci saranno vari interventi di tipo istituzionale, ci saranno anche professionisti legati all'ordine degli psicologi, degli assistenti sociali. E poi una carrellata, si spera, interessante e non noiosa su questo fenomeno che è un fenomeno davvero preoccupante in aumento. Avete dei dati in riferimento al fenomeno? È importante dire che a questi dati si sta cercando di dare delle risposte, risposte in termini di servizi, interventi sociali, interventi educativi. Il progetto nazionale che ha organizzato questo evento, che parte dalle marche ma si espande in tutta Italia, è il progetto Storia Nova, finanziato dal programma Con i Bambini, un programma pubblico di lotta alla povertà educativa e al maltrattamento dei minori. Come è possibile partecipare al seminario? Per iscriversi al seminario online è necessario agganciarsi ad attiviamoenergiepositive.it, una piattaforma che organizza webinar pubblici ed è sovvenzionata da Banca Etica. Basta cliccare su questo indirizzo e poi nell'home page tutti troveranno il riferimento al webinar del 24 febbraio.